Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, Italia, ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Salve a tutti, oggi parliamo di Street Food, una manifestazione che si è svolta ad Arezzo la settimana scorsa. L'amico e collega Gianni Brunacci ha pubblicato alcune foto all'interno di Facebook che hanno scatenato il putiferio e ritraevano delle autovetture che erano tranquillamente parcheggiate all'interno del parco Giotto. Questo naturalmente ha sollevato la giusta indignazione di molte persone che hanno protestato con gli organizzatori della manifestazione. Sì, per me rimane inconcepibile. Il putiferio fa parte del gioco, uno denuncia una cosa e c'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Io penso che le macchine di civili, che non siano la polizia o chi ci sta lavorando, nel senso di chi ha i banchi mobili o della manutenzione, non debbano stare dentro il parco Pertini come nessun parco. Sono 12 anni che abito davanti al parco Pertini in via Giotto e non ho mai visto le macchine, questo tipo dentro il parco. Improvvisamente, in una manifestazione che dura tre giorni, nei primi due giorni non c'erano auto dentro mentre suonavano le band e si svolgeva la manifestazione. Il terzo giorno, la domenica, si sono presentate dentro una decina di macchine, almeno quelle che ho visto io vicino all'ingresso, diciamo, di metà via Giotto. Una decina di macchine parcheggiate malamente, devo dire, anche con le ruote parzialmente sull'erba, lì dentro e sono rimaste lì dal pomeriggio fino alla sera dopo che era finita, chiusa la manifestazione fino a che le band hanno smesso di suonare alle 23 circa di domenica sera. Gli organizzatori della manifestazione se la sono a loro volta presa con Gianni Brunacci, come se avesse accusato la manifestazione nel suo insieme, che tra l'altro ha avuto un grande successo, ma queste autovetture all'interno del parco non ci dovevano stare. Io non ho un giudizio negativo nei confronti della manifestazione, come tutte quelle che si fanno nel parco Giotto, che credo che siano un motivo per socializzare, un modo per allietare le ore degli aretini, le ore libere, quindi non c'è niente in contrario. Io a questo proposito ho anche scritto, infatti, che sopporto qualsiasi disagio che venga da queste manifestazioni. Io contro le manifestazioni in se stesse non ho niente, naturalmente qui si assiste a incontri dei testimoni di Geova che raccontano le proprie vite, oppure a corse podistiche per tutte le categorie possibili, immaginabile, da 5 anni a 90 anni, va benissimo, però c'è lo speaker che tutto il giorno tu te lo sorbisci perché siamo in periodi in cui le finestre sono aperte, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche situazioni come queste di street food che è arrivata ora, ma c'è il Giro d'Italia, c'è la Tirreno Adriatica, c'è le auto d'epoca, ci sono le vespe, tutto avviene intorno a questo parco. Io so contento, sono felice di stare vicino al parco Giotto perché è bello e quindi sopporto queste cose. Non ho niente contro nessuna di queste manifestazioni e chi ha interpretato così il mio articolo, secondo me l'ha letto male, ma può darsi anche che sia stato spinto dalla mia errata scrittura e quindi abbia frainteso le mie intenzioni. E c'è stata una frase che ha fatto infuriare gli organizzatori o perché Brunacci avrebbe detto che la musica era di pessima qualità? No, ho detto strimpellavano in maniera improbabile o successi internazionali o peggio, ho scritto anche così proprio peggio, composizioni loro, perché in alcuni casi non riuscivo a riconoscere che musica fosse e suppongo che fossero composizioni loro, tant'è vero che infatti su questa cosa ho trovato solo conferme. Ma in realtà, secondo me, quello che io ho scritto rimane validissimo, nel senso che non sono stato solo a pensarla così, non si pensi che l'ho scritto perché l'ho pensato io e basta. C'è una serie di persone che abitano qui in questa zona, non sono mica solo, la pensano tutti come me, solo che nessuno si espone, io mi espongo perché scrivo in un giornale, quindi mi espongo. Le performance erano veramente di qualità bassa. Questo non è detto che corrisponda al fatto che i musicisti siano tutti di qualità bassa. Può essere benissimo, per esempio, che l'ambiente, che il tipo di amplificazione, la situazione intesa come fatto che intorno c'era un gran vociare, c'era gente che faceva festa, poi, alla fine, rendeva questa musica quasi inascoltabile, diciamo la verità. Io sono stato sia sullo spalto della casa, che è appunto vicina, molto vicina, e sia anche sul posto. Perché da utente io ho girato la manifestazione, che mi piace, che ne dica qualcuno. Ho girato, ho consumato, mentre ascoltavo la musica mi sono fermato, ho assistito anche a una parte di concerti, e devo dire che la mia impressione è quella che ho scritto. Restate con noi, cari amici, a tra poco. E siamo alla seconda parte, sempre in compagnia di Gianni Brunacci, la questione relativa alle auto parcheggiate all'interno del Parco Giotto in occasione dello street food. Una situazione davvero incresciosa, però bisogna dire innanzitutto una cosa. Gianni Brunacci ha tanti pregi, uno dei quali, secondo me, il più importante, dice sempre quello che pensa. E questo gli ha procurato tanti nemici. Ma anche di molti amici, perché gli amici non si appalesano. Allora, succede spesso che si dà molto peso alle reazioni negative. Perché chi la pensa in maniera diversa, o chi vuole denunciare, o chi vuole fare, di solito si butta, si esprime. Mentre chi è d'accordo con determinate cose, non lo fa. Rimane in silenzio. Se concorda con quello che è stato scritto, è inutile che lo confermi. E quindi sono sempre in minoranza quelli che dicono sono d'accordo. Ma se io ho 2000 lettori, poniamo, di un articolo, e ho, normalmente, ora a parte questo caso qui, che saranno una cinquantina di interventi, ma normalmente posso avere, se prendo posizioni un po' drastiche, eccetera, eccetera, 15, 20 commenti sotto l'articolo. Bene, che vuol dire questo? Vuol dire che 20 persone su 2000 non erano d'accordo. Perché bisogna ragionarci su queste cose. Non è che sono tutti perché ci sono 20 persone. Bisogna fare un ragionamento e dire che non saranno solo 20 quelli contrari, perché naturalmente anche molti di quelli contrari non si sono espressi. Va bene? Quindi non saranno 20, saranno 100. Bene, se io ho 2000 lettori e 100 sono contrari, io continuo a scrivere quello che penso. Il problema è che gli organizzatori di Street Food dicono, sostengono, che queste autovetture erano state autorizzate al parcheggio all'interno del parco. Non si capisce però bene da chi. Eh sì, nel senso che, dunque, io non mi ero preoccupato di questa cosa, e questa è una colpa mia. Quando ho visto che le macchine rimanevano lì tutto il pomeriggio e la sera, ho visto stamani alle 19.20, io sono andato a fotografarle. A fotografarle per quelle foto che poi ho pubblicato su Arezzo Notizie. Queste macchine non potevano essere lì, in quella posizione, parcheggiate in quel modo, per un'autorizzazione. E quindi non ci ho pensato minimamente ad andare a contattare la polizia municipale per capire se erano autorizzate. Quando uno dei componenti della band che suonava domenica sera, l'unica che ha portato delle macchine di dentro, sottolineo, non quelle del sabato e del venerdì, mi ha minacciato, anzi no, mi ha annunciato una querela e mi ha trattato male, mi ha offeso per telefono, per scritto, in ogni modo, questo signore mi ha detto, noi avevamo il permesso da settimane. Vabbè, io ho anche scritto in un commento sotto il mio articolo, mi scuso se avevate il permesso, me la prenderò con la polizia municipale che ve l'ha dato. No? Questa era la mia posizione. Solo che, chiamando la polizia municipale, questa mi ha detto che non ha dato alcun permesso e che invece l'avrebbe dovuto dare, che era rimasta molto male di quella situazione, di quelle macchine, quanto me, anzi più di lei mi è stato detto, siamo rimasti male più di lei, il che non toglie che, non voglio dire che loro non abbiano parlato con nessuno o che nessuno gli abbia dato magari un ok, ma se gliel'ha dato qualcuno, gliel'ha dato chi non glielo poteva dare, chi non glielo doveva dare, perché doveva passare dalla polizia municipale. La polizia municipale non ha dato nessun permesso. Se poi l'ufficio verde pubblico del comune ha fatto un elenco delle macchine che potevano entrare, questo è possibilissimo, ma non c'era autorizzazione della polizia municipale. Detto questo, non è importante per me, sarà importante per loro? Per me no. Per me è importante il fatto che non risucceda, quindi l'ho scritto perché non deve risuccedere. Finisce qui il nostro odierno appuntamento, grazie per essere stati in nostra compagnia. A domani. Grazie.